Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto a batterie per videocamera. Batteria per videocamera. Batteria per videocamera professionale Panasonic ISDX 900P, 14, 4V, 7800MA, 112WH, Leon questa batteria è dotata di una boccola di attacco per l'alimentazione di apparecchi esterni. Esiste anche un indicatore di ricarica a 5 gradini. Batteria compatibile poveri. Compatibile, 14, 4V, 7800MA, 112WH, dimensioni, 155 mm x 85, 5 mm x 52 mm. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.